RIDI, BEN ARRIVATO Allora La prima birra E' una settimana che sto un pochino meno... Salute, salute, salute Salute Ciao, mi chiamo Alessandro E questa è la seconda birra Anche la sua Come si chiama quella... La Perfavore Questa, questa Quello è un cacolo Questo fumetto Fumetto Sempre venerdì questo si chiama siamo pronti per andare a vedere l'italia contro l'irlandio è arrivato a Sean il tassista questo è un'attività 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 l'attività è un'attività è un'attività c'è anche la guinness gratis peccato che è 0-0 c'è la guinness gratis come i vecchi, fate come i vecchi fanno la foto pensando dai 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 we've got to sing it's really fun ready fratelli d'italia 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 e anche voi le luci vanno giù e non si scherza facce sconzolate in primo tempo noi non ce l'aspettavamo facce sconzolate ne abbiamo presi meno di 40 questa è la fila per prendere il treno se guardo di là siamo tutto sommato in una posizione buona concludiamo questo video di questa vacanza barra gita gita in Irlanda considerazioni di Alessandro quali sono? troppo po' è venuto troppo tardi e se ne va troppo presto dovrei prestare di più però da aprire come una stanza magari verranno che ne spendo con me ammazzo sei pronto a partire? Gabriella ti mancherà zio Emi? vabbè io sono pronto la compagnia di bus con cui viaggio è pronta vabbè